A me piace invecchiare, hai letto quello che ho scritto stamattina? Sì. Mi piace moltissimo invecchiare perché mi dà la possibilità di imparare tantissime cose, io ogni giorno imparo l'ira di Dio, sono pieno di dolori e di malanni, come ho scritto, però mamma mia, che bello, insieme a Oscar Wilde o a Leone Tolstoi o a Stalin o chiunque altro ti possa venire in mente, ci sono gli aforismi di Mauro della Portarafo, basta andarli a cercare su internet. Uno dei miei aforismi è quello che riguarda, una delle mie narrazioni brevi che spiegano come sono io, riguarda Seneca, perché Lucio Arneo Seneca, grandissimo filosofo, uomo di altissimo livello culturale e intellettuale, fu invitato da Nerone a suicidarsi perché altrimenti l'avebbe fatto ammazzare lui, riteneva che fosse stato partecipe della cosiddetta congiura dei pisoni contro di lui, il buon Nerone, e quindi gli disse, senti, guarda, è meglio che ti suicidi perché altrimenti ti faccio ammazzare io e magari prima ti torturiamo anche, per cui fallo tu e buonanotte, soffri di meno. Allora il buon Seneca invita a cena tutti gli amici, fa una grandissima cena, tutti quanti sanno che dopo dovrà suicidarsi e che cosa fa? Sente che il musico sta eseguendo una canzone che lui non conosce. Allora chiama il musico e gli dice, ma me la insegni? Il suo vicino di Triclinio, diciamo così di Triclinio, il suo vicino gli dice, Seneca, ma tu fra poco sarai morto, perché vuoi saperla? E la risposta è quella che mi governa da sempre, per conoscerla quando morirò. È così che funziona.